Alexander è stato qui, lo prende! Full Nelson Slam! Mamma mia quanto l'ha tirato su! Quanto l'ha tirato su, incredibile! Ebbè, questa è la potenza di Belli Che ora finalmente Ma chiede il cambio Su Benna! No, va buono qui! Eh, bravo Alexander Eh, ma Benna si riprende Oh, Benna vuole aspiarlo Ci riprovo, attenzione! Accordi il rec su Benna qui! Accordi il rec su Benna! Questa per cedere! Questa per cedere qui! Non ce credo! Non c'è, c'è forse! C'è il Tom, sto no! E anche l'altra parte ha poco il senso di quel Tom Oh, il Spambuster di Benna! Il Tilar li trova a pezzi d'ormeggi, però Oh, Alexander ha gli spavoli, no Benna Molto bravo, il match di coppia Davvero un bel match Oh, va a voto qui! Riuscire per l'angolo Mossa di coppia Finalmente è una manovra di coppia Oh, Next Next Map è un calcione dritto sulla schiena Ma si fa a Benna Dove va a Benna? Ah no, è Bernie nuovo, nega Attenzione! C'è lo schienamento Uno Due E tre Non ci credo Bernie e Benna Vanno a vincere Dopo questa manovra di coppia C'è un calcione dritto la schiena On Next Map No, tu Alexandra mi ha un po' deluso Diciamo qua la verità Alexandra è molto deludente E la vedo molto male anche per l'animation chamber Mindesima pecca Mindesima sconfitta Guardiamo qui Next Map è dritto con un calcio sulla nuca Mamma mia Lo ha steso Molto lento qualche lo schienamento Però Fia, le volte stanno completamente a vuoto Con queste immagini è tutto Vi do un appuntamento Ad l'animation chamber Sarà in compagnia come sempre Perché Andrea Chester E probabilmente anche di un altro Gran nemico Ora però è tempo Di Di dare la linea Ad altri programmi Ragazzi Con questo è veramente tutto Ad elimation chamber Ciao